perché tutto questo? perché effettivamente dunque il compleanno era di Maurizio Bonanno Bonanno esatto ma noi siamo una grande famiglia esatto auguri Monica Monica Massa dall'altra parte che peraltro oggi pomeriggio ho sentito questa splendida trasmissione che abbiamo fatto io e lui insieme per la prima volta invece io e te abbiamo già insomma o no? sì sì o no? no 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 allora è un altro inedito e allora è un altro inedito ti ricordi la prima volta è la prima volta senti come canta allora ci vediamo più tardi sì assolutamente sì senti questo brano che sta arrivando sottofondo ascoltiamocelo tutto siamo tornati siamo rientrati questo è intanto devo dire a onore del vero che ci sono già due o tre giorni che il tempo quantomeno qua in Liguria è bellissimo molto bello esatto ci avviciniamo ai mesi diciamo della primavera inoltrata aprile è anche il mese dei matrimoni è anche il mese del dolce dormire come si suol dire assolutamente sì ed è il mese in cui il sottoscritto di solito inizia a fare oltre al cambio degli armadi anche il cambio del portabagagli della macchina ecco questa cosa non la sapevo e certo nella mia automobile ci sono vari c'è un piccolo bauletto dove durante l'estate ci sono anche dei maglioncini di lana e dove durante l'inverno ci sono pronti lì comunque l'infradito e l'asciugamano per andare in spiaggia ah ho capito perché perché qua in Liguria diciamolo è sempre estate ah ecco ho capito allora praticamente Claudio cosa fa all'interno della sua macchina tiene un po' di robina per l'estate e un po' di robina per l'inverno così che se lui si trova in giro cosa fa si mette la ciabattina infradito oppure si mette il maglioncino ma mi capitasse per sbaglio di uscire a Mentone all'improvviso magari Genova Est non la vedo esco a Mentone in Costa Azzurra è sempre estate ok io devo avere in macchina ogni ogni ben di dire hai capito? hai capito Claudio hai capito? ah hai capito eh chi è che diceva così il buon Mike buongiorno ci sentiamo dopo siamo ancora insieme Claudio Gambaro e Max Carpaneto con questa puntatona di RG Box ah